Buongiorno a forza, buongiorno a grande, per tutti gli esogenti del secondo anno, in tutto l'uomo, buongiorno ragazzi, davanti Andrea Visitin della PCR Timber, attenzione, pronti anche gli esogenti del primo anno, via la fattuccia, sono determinati con la presenza anche per il campione italiano della categoria degli esogenti del primo anno, l'ho detto Filippo Cingarano, del team Cingarano, attenzione, partiti, alle mani, è solo il campione italiano, non un problema, non un problema, siamo già campionati qui, adesso raccomando con il numero Deci minuti, bravo, bravo, dai dai! Allee, allee, allee!